Due immobili e cinque imprese dal settore edile immobiliare in provincia di Piacenza e di Cremona a cui si aggiungono due autovetture, 43 rapporti bancari accesi in numerosi istituti di credito. È questo il sequestro di beni pari ad un valore di 3 milioni di euro eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia nei confronti di un presunto appartenente ad un sodalizio criminoso legato alla cosca di Andrangheta Grande Aracri di Cutro che operava nei territori di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza e nelle province di Mantova e Cremona. Il sospettato è stato sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per cinque anni. Il provvedimento di prevenzione è stato emesso dalla Corte di Appello di Bologna. L'esistenza di tale sodalizio nell'area padana è legata alla cosca crotonese ed è stata definitivamente sancita dalle sentenze del Maxi Processo Emilia. Il risultato raggiunto, si legge in una nota, scaturisce da una complessa attività investigativa i cui esiti avevano portato nel mese di luglio 2021 il procuratore della Repubblica della Direzione Distrittuale Antimafia di Bologna e il direttore della Direzione Investigativa Antimafia a formulare una proposta congiunta per l'applicazione delle citate misure di prevenzione personale e patrimoniale.